il collegamento attivo io comincio dimmi tu ci siamo allora buonasera a tutti io vi do il benvenuto a questo secondo appuntamento di oggi per per quanto riguarda via book festival del libro e dell'editoria come abbiamo tenuto a definirlo edizione duemila e ventuno in realtà in questa formula è la prima edizione di un festival che l'amministrazione comunale di busto e nella fattispecie l'assessorato alla cultura che ho l'onore protempore di dirigere hanno voluto fortissimamente riportare a busto a busto un festival del libro della città mancava da molti anni ma era una mancanza a cui secondo noi bisognava porre assoluto e eccelere rimedio perché busto arsizio parla il linguaggio del libro della letteratura e come vedremo dell'editoria a busto c'è quello che abbiamo definito per semplificare concettualmente un sistema libro come c'è anche un sistema cinema un sistema teatro con otto sale teatrali ma insomma il sistema libro è articolato e composto e copre un po i vari le varie dimensioni del mondo legato al libro alla letteratura e all'editoria ci sono otto librerie ci sono sei case editrici ci sono due biblioteche di grossa rilevanza questa la biblioteca civica una delle più importanti della provincia in lombardia e anche la biblioteca capitolare che è di proprietà della curia ma è un un insediamento preziosissimo sul nostro territorio poi ci sono le associazioni che si dedicano alla promozione del libro e della lettura tutto questo è riunito attorno a un tavolo ideale ma anche materiale costituito dall'amministrazione che è il tavolo letteratura che è colui che è la diciamo la realtà che insieme all'amministrazione comunale ha concorso a realizzare questa settimana una settimana con 27 eventi di cui alcuni collaterali c'è una mostra un'installazione di fiber art al primo piano di questo palazzo che ospita anche le nostre civiche raccolte di due artisti di milano i dams che hanno creato una installazione di grandissime dimensioni che riproduce un libro fatto di fili e di materiale di scarto della produzione tessile al cui interno sono appesi dei libri più piccoli anch'essi recuperati a una nuova vita poi c'è una mostra fotografica nel cortile di palazzo cicogna forse oggi penalizzata dal maltempo che di davide caffario che è un fotografo di della città che ritrae persone intente a leggere nelle più diverse situazioni poi ci sono due mostre di libri una appunto alla biblioteca capitolare che consiglio a tutti di andare a visitare almeno una volta nella vita perché non è una visita è un'esperienza e una di cosiddetti libri vintage per bambini in una delle librerie la libreria il libraccio questa sera noi diamo voce e volto a una componente fondamentale del sistema libero diamo voce e volto alle nostre case editrici ne vedete quattro parto dalla mia sinistra c'è cristina de piante di de piante editore poi c'è la 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 casa editrice x y con virginia di cui in questo momento non mi ricordo il nome martelli esatto poi c'è emanuele tosi di nomos editore e il professor calmello il occhi pinti di albacar ci sono altre due case editrici che non sono sedute qui che sono people e edizioni il falò che concorrono però anche loro a questa programmazione ma soprattutto io voglio dare il benvenuto questa sera al professor roberto cicala il cui libro i meccanismi dell'editoria sarà proprio al centro dell'incontro organizzato dagli editori perché è importante capire dietro questo oggetto che è ricordiamolo il primo oggetto culturale con cui veniamo in contatto appena nati e lo ricordo ancora la biblioteca civica tra i suoi tanti meriti quello di regalare un libro a tutti i bambini che nascono ai genitori naturalmente sperando che sia il primo di una lunghissima serie della loro vita oltre alla tessera della biblioteca dietro questo oggetto c'è un altro mondo c'è il mondo dell'editoria che porta a tutti noi nelle borse nelle tasche nelle case sugli scaffali in biblioteche nelle librerie un oggetto di cui dovremmo mai di cui non dovremmo mai privarci che dovrebbe accompagnarci sempre io vi lascio a questa riflessione ricordo che siamo in diretta cioè siamo in presenza in sala monaco con un pubblico che si è prenotato e che ha accesso a posti in numero contingentato ma siamo in diretta perché dalla pandemia noi salviamo quello che di buono possiamo salvare come appunto le le trasmissioni streaming grazie alla tecnologia sia sul canale youtube della biblioteca che sulla web tv del comune di busto arsizio ringrazio tutti gli editori quattro più i due che si sono aggiunti in corsa ma soprattutto ringrazio il professor cicala per essere qui e per aiutarci a varcare una soglia immateriale per i lettori cioè quella che sta dietro la realizzazione di ogni libro grazie a tutti per l'ascolto e buon incontro buonasera beh quest'idea del libro costruito e installato artisticamente con rimasugli e materiali di recupero è molto interessante perché dà l'idea sicuramente di quanto il libro per il libro sia necessaria la sostenibilità e sia necessario per capire un libro vedere anche i materiali di cui è fatto e i materiali di cui è fatto spesso sono materiali che derivano dal riutilizzo di documenti atti azioni idee che sono culturali e che vengono trasferite nel libro in in questo volume i meccanismi dell'editoria come recita il sottotitolo cerco di descrivere il mondo dei libri però da un punto di vista particolare cioè cercando di tendere l'arco che dall'autore arriva fino al lettore perché tra questi due poli fondamentali in cui ci riconosciamo in verità c'è tutta una serie di mestieri di professioni di meccanismi che aiutano questo passaggio e aiutano soprattutto un lavoro fondamentale che è un lavoro l'ha detto l'assessore è un lavoro che all'interno del sistema culturale fa da cerniera tra chi propone qualcosa e chi riceve qualcosa ma non in maniera univoca ma in maniera vicendevole sto parlando della mediazione insieme a me ci sono quattro editori di busto che secondo le loro loro specifico offrono una mediazione ma che cos'è la mediazione ecco la mediazione è quella è quel lavoro intellettuale che rende l'editoria qualcosa di diverso dal solito e perché perché rende il libro qualcosa di unico perché è fatto secondo un imprinting secondo un marchio che quello del singolo editore un singolo testo che arriva da un autore potrebbe a questo tavolo siamo in cinque potrebbe diventare cinque edizioni diverse cinque libri diversi perché ognuno secondo la propria cultura secondo la propria progettualità secondo le proprie visioni del lettore del lettore potenziale perché ogni editore deve imparare a guardare negli occhi il suo lettore ideale ecco può plasmare e immaginare e quindi realizzare un libro diverso sto parlando di quello che è la materialità del libro l'assessore parlava di immaterialità perché è il cuore del libro ma in verità quando noi veniamo in biblioteca andiamo in libreria e prendiamo in mano un libro prendiamo un parallelepipedo di carta carta stampata carta rilegata che ha una sua materialità e il prezzo di copertina che noi vediamo che noi compriamo e che spesso è una leva per decidere se comprare o no dobbiamo comprare un regalo e allora alla fine tra due libri simili soprattutto per esempio una leva prezzo importante nella letteratura nell'editoria per l'infanzia nella fascia dei non lettori quindi 0 6 il prezzo tra due albi illustrati cartonati è fondamentale perché spesso non si conoscono gli autori non si conoscono gli illustratori e bisogna fare un regalo ecco questo esempio è molto importante per farci capire come quel parallelepipedo di carta di cui vi dicevo che alla fine dà valore al prezzo di copertina in verità non dà valore a quel prezzo di copertina e qui è il punto dà valore al vero al vero cuore del libro che è il contenuto immateriale e con cui lo dico subito non c'è storia tra il libro l'ebook ma sono sono contraposizioni che non hanno senso perché il senso è lavorare su più fronti essere multitasking ormai la verità l'attualità ci dice questo ci insegna questo è la nostra esperienza quotidiana e allora torno a questo discorso il lavoro intellettuale del mediatore culturale che è l'editore è fatto di tutta quella serie di contenuti immateriali che però danno valore alla materialità che poi noi acquistiamo e sotto cui noi troviamo un prezzo di copertina ecco ma è una contrapposizione che non è una contrapposizione naturalmente è una fusione tra materialità e immaterialità che però è fondamentale perché se noi non l'accogliamo non riusciamo a capire davvero quali sono e qui torno al titolo del libro tutti i meccanismi di questa filiera che è una filiera lunga perché parte da fuori dalla casa editrice con varie consulenze poi arriva in casa editrice e poi ha tutta una serie di professionalità le più diverse che concorrono a progettare a realizzare a allestire questa edizione che poi deve essere presa in mano da realtà da professioni da scrivanie che spesso non ci si immagina per un libro è normale noi prendiamo in mano il libro e siamo di fronte all'autore e certo è l'autore non altri alcune volte ci si accorge che c'è un editore quando si trova un errore quando c'è un prezzo troppo alto se no gli editori sono trasparenti chi lavora in casa editrice trasparente ebbene questi queste professioni trasparenti questo lavoro intellettuale che poi diventa industriale perché l'editoria un'industria dell'artigianato di giornata intellettuale ecco tutti questi lavori trasparenti in verità sono fondamentali e allora ho voluto raccontare l'ho raccontato soprattutto con un centinaio di casi contemporanei tratti in molti casi da ricerche d'archivio inedite ho voluto raccontare quali sono i passaggi di questa filiera in maniera tale che noi lettori possiamo essere più consapevoli di che cosa leggiamo perché essendo più consapevoli di cosa leggiamo possiamo essere più consapevoli della vita sociale che viviamo il libro alla fine sì è una bella storia da leggere un saggio che ci informa tutto quello che vogliamo ma in verità è un modo per vivere meglio è un modo per interpretare meglio la società in cui siamo non si scappa e allora perché non conoscere che cosa sta dietro il dietro le quinte di questa costruzione straordinaria che è la costruzione di un libro della prima industria culturale italiana che viene prima della musica del cinema dei teatri e non si scappa pur essendo settori in crisi ma i numeri i numeri sono questi e allora il viaggio che un viaggio l'avete capito è un viaggio esteriore e interiore al tempo stesso è proprio quello di un'avventura un'avventura dentro le parole che arriva alla fine di un percorso per capire ma non c'è questione di supporti è meglio l'ebook è meglio il libro di carta non è questione di supporti perché al centro c'è la lettura perché alla fine anche un ebook valorizza il lavoro immateriale il contenuto immateriale che è il cuore di ogni edizione e ognuno e ognuno delle persone che è seduta accanto a me lavora perché crede nel valore delle parole e nel valore delle parole che si trasformano in cultura attraverso la lettura su qualsiasi supporto su qualsiasi supporto e allora su questa base io lascerei subito la parola per un dialogo con con i colleghi e soprattutto eventualmente anche con un dialogo col pubblico è sempre meglio rispondere a domande o interrogativi che voi avete in maniera tale che cerchiamo di illuminare meglio alcuni aspetti perché come dicevo gli aspetti i meccanismi le rotelle di questi meccanismi sono davvero tanti intanto vi do una precisazione di come nasce l'incontro perché può spiegare anche come abbiamo inteso condurlo quando l'assessore mafioli ci ha proposto di fare qualcosa come editori cristina in particolare cristiana le piante ha proposto una presentazione di questo libro perché invitando il professor cicala si poteva potevamo avere un pretesto e un modo per spiegare un po di cose che sono nella maggior parte dei casi sconosciuti a chiunque a chi non si occupa di editoria e l'idea era proprio quella di fare di creare una come dire una sorta di piccolo dibattito di spazio aperto per le domande di qualunque tipo noi ci siamo un po divisi come dire gli argomenti a seconda di delle domande che potevano venire e tanto per fare un esempio tra di noi c'è chi ha detto sarebbe un'occasione interessante spiegare come si come si propone un testo a una casa editrice una delle esperienze più più tipiche che tutti quanti noi cinque abbiamo fatto è quella di ricevere di ricevere proposte editoriali anche di valore e assolutamente ragionevoli ma che sono totalmente fuori da quello che è la nostra attività editoriale cioè che sono mandate da persone che apparentemente non hanno neanche guardato su internet prima di mandarcele adesso non so se cristina volevi cominciare tu che su questa cosa hai un aneddoto molto specifico comunque a tutte venute in mente no tutti i giorni noi riceviamo mail da potenziali scrittori o candidati scrittori che ci propongono sono tizia caio ho scritto questa cosa l'interessa pubblicarlo no il 90 per cento delle volte non si degnano nemmeno di leggere il sito internet di interpretare il sito in perché se tu vai sul mio sito internet per esempio di depianti e ti sto comunicando che pubblico solo scrittori del novecento inediti non più viventi no cioè allora prima devi vincere un nobel poi devi morire devi essere nato nel novecento poi forse ti pubblicherò no quindi quello che si diceva chi ha la voglia di pubblicare di sottoporre alla considerazione un testo che ha scritto almeno si degni prima di visitare il sito internet della casa editrice e capire cosa fa questa casa editrice perché se uno fa solo libri di ricette inutile che gli tropponi un romanzo sul lago maggiore quindi era quello po ieri che tutti e quattro subito io sì subito specificherei alle persone che dovrebbero prima consultare il sito esatto e poi l'altra metà dell'incontro anche cercando di spiegare che occasioni offre il mercato in termini lavorativi quindi non solo per chi si affaccia come potenziale autore ma anche per chi vuole vuole lavorarci e qui forse anche il professor cicara può dire qualcosa sui numeri perché come è scritto nella parte del libro il mondo del libro in italia viene dato per spacciato ogni ogni settimana in realtà non è proprio così nel 2020 nonostante la pandemia il mercato del libro ha fatto più 3 per cento quasi c'è una vivacità reale una vivacità che poi in alcuni settori si manifesta anche concretamente in fenomeni visibili la fiera del libro di bologna sopra di tutti il libro per illustrato per ragazzi si è imposta in questi anni come una realtà di valore a livello mondiale quindi è nata in italia è cresciuta ed è diventata un riferimento a livello mondiale e sono dati incoraggianti se da tutto il mondo vengono in italia per fare una fiera prima del covi fare una fiera sul mondo del libro quando c'era già francoforte c'era già londra c'era già sincappone il dato è forse più incoraggiante di quello che si dice è proprio così e i dati ci dicono questo ma come ci dice lo racconta anche il libro è la storia in italia prendiamo non so un'indagine doxa che viene fatta nel 1947 dalla rizzoli di angelo rizzoli quando vuole lanciare i primi tascabili economici in italia la bur che poi uscirà due anni dopo la cosa curiosa è che in quel periodo risultano lettori di almeno un libro l'anno circa il 46 per cento degli italiani degli intervistati l'ultima indagine d'oxa in italia dice che 46 persone su 100 leggono almeno un libro l'anno vuol dire che il resto non legge nemmeno un libro l'anno quindi la base è questa l'uno dice caspita allora davvero la situazione è grave però non è così in verità non è così grave certo noi abbiamo dei livelli di lettura molto molto bassi in europa e nel mondo pensiamo che solo la francia è l'ottanta per cento non andiamo in svezia dove abbiamo il 92 per cento però davvero molto molto bassi e però c'è da dire che il mercato sta reagendo durante solo due mesi di lockdown aprile marzo aprile 2020 abbiamo bruciato fumato 8 milioni di copie di libri 134 milioni di euro in questi due mesi che voleva dire fare un un anno che era meno 40 40 per cento in verità siamo arrivati alla fine dell'anno registrando un più 2 3 per cento quindi con una reazione straordinaria tenendo conto che in lockdown l'italia è stata uno dei paesi che ha letto meno nel primo lockdown nel mondo però poi ha reagito chi ha reagito hanno reagito i lettori forti i lettori abituali i lettori consapevoli che hanno incominciato a leggere libri di carta dove le han comprati è un altro discorso complesso ma in molto interessante che hanno incominciato a leggere libri in formato digitale che hanno incominciato ad ascoltare libri perché il vero fenomeno del 2020 è il libro che si fa voce l'audiolibro l'audiobooks audible e non solo i dati i dati poi ci dicono che nel primo trimestre 2021 siamo con un più 25 rispetto al trimestre 2020 però cioè faceva stiamo facendo un confronto talmente terribile che non è non conta ma ci dicono che gli italiani stanno crescendo come lettori quindi vuol dire che c'è qualcuno c'è ci sono migliaia di italiani che l'anno prima non avevano letto e adesso incominciano a leggere cosa leggono la maggioranza leggono ancora su carta che però è passata dal 38 al 27 per cento molti hanno incominciato a leggere molto di più in digitale è negativo positivo no la lettura lo dicevamo prima è positivo in assoluto dove li comprano attualmente siamo a circa il 40 50 per cento sugli store online con però un recupero delle librerie che hanno recuperato molto grazie all'operazione a ciò che hanno fatto durante il lockdown cioè le librerie indipendenti hanno reagito bene hanno pensato anche di inventarsi un delivery come quello del cibo hanno reagito molto meglio delle librerie di catena e questo è molto indicativo e quindi sono riuscite addirittura a crearsi un futuro sul quella crisi gli ha messo in moto una serie di meccanismi per inventarsi una maniera per resistere in maniera più cioè la resilienza al cubo ecco sono tutti elementi che ci dicono quanto sia importante questo settore e quanto però sia delicato e quindi le scelte degli editori devono essere responsabili devono essere precise devono essere ognuna diversa dall'altra per questo che non uno non può dire agli editori che rifiutano i libri che non li leggono e torno al primo punto perché non capiscono ma com'è possibile uno poter leggere tutto quello che arriva perché ci sono casitrici che ricevono davvero quintalate di carta al giorno e sembra quasi che in italia ci siano più scrittori che lettori diceva vanni scheiviller è un grande piccolo editore probabilmente perché ci si usano così tanti pseudonimi per cui alla fine c'è davvero questa questo questo numero che sballa ma la cosa interessante è stato detto prima molti mandano cose che non servono e questo dimostra non che gli editori fanno bene o male a rifiutare ma che gli editori devono scegliere secondo la loro responsabilità e secondo la loro il loro modello culturale secondo il loro progetto culturale per cui uno dei casi di cui si parla in questo libro anche quando uno dei grandi casi del dopoguerra in italia il secondo il secondo best seller italiano del secondo dopoguerra c'è il gatto pardo il prima era era stato lettere da capri di soldati con il gatto pardo noi abbiamo il caso in cui si dice a vittorini lo rifiutò ma dove lo rifiutò quando arrivò a mondadori ed era dentro mondadori lui come consulente disse ho letto due capitoli ci sono delle cose che non vanno però può funzionare bisogna leggerlo tutto e non gli arrivò indietro quindi non fu rifiuto ma il vero rifiuto che fece lo fece come tirando via il cappello il berretto di mondadori mettendo il berretto in audi perché intanto era consulente anche in audi e dirigeva i gettoni mitici gettoni la collana che ha fatto esordire e dato successo a fenoglio lalla romano lucentini e tanti tanti altri rigoni stern testori eccetera ebbene in quel in quel caso visto che era una collana sperimentale di giovani che dovevano rappresentare l'italia del dopoguerra il gatto pardo di tomasi lampedusa in effetti non ci stava e quindi quello è stato un rifiuto vero ma consapevole ecco questo per dire che davvero il contesto conta molto e quindi bisogna saper vedere il contesto e saper conoscere quello che di solito come si diceva non si conosce abbastanza i meccanismi che stanno dietro questo lavoro entusiasmante dell'editoria è un lavoro che da credo che lo possano testimoniare tutti i presenti grandi grandissime soddisfazioni morali e pessime soddisfazioni economiche però è straordinaria non pensare vuoi parlare tu virginia mi ricollego ecco mi ricollego a quanto è stato appena detto proprio per fare il mio intervento abbiamo detto che arrivano in casa editrice sempre tantissimi manoscritti da valutare eccetera noi credo anche loro li si guarda tutti almeno noi li guardiamo tutti poi logicamente come già stato detto questi manoscritti la maggior parte viene trattata per le ragioni che sono già state esposte ma poi arriva anche il manoscritto che che verrà preso in considerazione quindi che potrà che che suscita interesse quindi la mia domanda è e lascio quindi la parola ancora al professore cosa succede all'interno quali sono i meccanismi quindi che cosa si mette in movimento in una casa editrice quando arriva effettivamente il libro da pubblicare quindi quali figure quindi chi concorre a queste sono sì la domanda è molto bella perché permette di entrare in casa editrice e guardare le scrivanie della casa editrice e soprattutto guardare innanzitutto le non scrivanie perché molti dei lavori con cui si fa un libro sono partono da fuori dalla casa editrice spesso pensiamo ai traduttori con tutto il lavoro importante dei traduttori ad esempio rispetto ai traduttori si parla in un capitolo della della difficoltà e di tutto il travaglio della traduzione di harry potter con le polemiche per esempio la traduzione di albus silente che albus silente nell'originale era una un albus che doveva rappresentare e dire qualcos'altro c'è un moscone bronzante e quindi viene criticato la scelta italiana di usare albus silente poi in verità alla fine della saga si si scopre che forse la scelta giusta perché sono i silenzi di albus che determinano determinate scelte di harry potter e il traduttore spesso sta fuori oppure il consulente pensiamo io racconto tutta l'esperienza straordinaria di sciascia con sellerio che ha creato si può dire inventato una casa editrice l'ha inventata sciascia stando all'esterno come consulente oppure tutti gli scout e quindi non sono ancora entrato in casa editrice gli scout che lavorano e attraverso le piattaforme digitali creano insieme agli autori dei casi faccio racconto per esempio il caso della storia della buonanotte per bambini ribelli che è nato al di fuori delle casitrici senza che le casitrici entrassero con tutto un lavoro di crowdfunding quindi di raccolta fondi e grazie a un'attività straordinaria social andando su kickstarter a raccogliere addirittura in seconda battuta facendo un gol come si dice di un milione di fatturato prima ancora che il libro uscisse e quindi poi essendo stato messo sul all'asta nelle case editrici internazionali e non siamo ancora entrati in casitrice poi bussiamo entriamo in casitrice e allora sì davvero le scrivanie sono tante se dovessimo prendere una casitrice standard abbiamo almeno o quattro piani sono una grande casitrice o quattro stanze se una una piccola casitrice e quindi abbiamo naturalmente il cuore della diciamo intellettuale che la redazione la direzione editoriale chi legge chi corregge chi rivede chi pensa gli editor e naturalmente accanto agli editor tutto un'altra stanza un altro piano tutto l'aspetto tecnico l'ufficio tecnico che sono i grafici che sono coloro che pensano a che tipo di carta che tipo di edizione che tipo di legatura avere preventivi immaginare i costi di logistica immaginare i processi di logistica preventivare il costo anche che quel libro avrà nel magazzino di metri cubi perché su tutti i costi gli editori a fine anno pagano tutta quella carta che hanno stampato inutilmente che non hanno venduto la pagano con le tasse perché è comunque tutto tassato e viva e però con quella 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 carta che non vende che rimane lì a prendere polvere costa 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 in in metri cubi in affitto in sicurezza in commercialista eccetera eccetera e questo è l'ufficio tecnico con tutti quegli altri aspetti che possono riguardare chi fa le foto chi disegna internamento esternamente quindi chi immagina dal punto di vista grafico e artistico è un un libro pensiamo a tutta la parte artistica dell'edizione dei piante per esempio ma c'è un altro aspetto e anche questo entusiasmante da un certo punto di vista e tra l'altro tutte queste stanze tutti questi piani tutte queste scrivanie devono continuamente parlare non è che prima passa da uno poi passa dall'altro e il terzo il terzo elemento è l'aspetto promozionale o commerciale che si rivolge perché uno dice ma sì gli editori lavorano per il lettore ma no questo aspetto si rivolge a targhe diversi quindi deve in qualche modo sbilanciarsi l'ufficio commerciale che deve pensare alle librerie altri mediatori e quindi lavora per vendere alle librerie e deve lavorare a partire sei mesi prima per fare le schede le copertine eccetera però però per fare questo deve definire anche il prezzo di copertina prezzo di copertina e mica lo decide il l'editoriale lo decide il commerciale allora il commerciale che deve pensare a un'altra un'altra prospettiva quella del lettore finale in mezzo ci sono coloro che poi devono quando il libro è uscito promuoverlo perché i media perché i giornalisti perché i giornali ne parlino l'ufficio stampa come vedete targhe diversi che arrivano a mediatori diversi per poi comunicare al mercato finale ma tutto questo non è che si fa senza che la quarta stanza il quarto piano non sappia niente che quello dell'ufficio diritti che l'ufficio diritti deve calcolare perché se quella a quell'autore diamo il 10 per cento l'anticipo di 3 mila euro però poi quante copie facciamo perché se facciamo quelle copie allora la promozione allora l'ufficio promozionale che va legato alla distribuzione potrebbe vendere questo ma allora funziona che prezzo di copertina no allora forse conviene cambiare collana facciamo meno pagine aumentiamo il prezzo di copertina però se aumentiamo il prezzo di copertina rischiamo di perdere allora ecco tutte queste tutte queste cose sono alcuni degli aspetti e poi naturalmente la parte più amministrativa standard e ne ho dimenticati tanti che sono tutte le professionalità che insieme fanno il libro e fanno il libro il libro che poi noi prendiamo in mano la copertina questa soglia che che ci invita ad essere attraversata per entrare nella casa del libro è fatta tanto anche da chi si occupa del diritto d'autore chi si occupa dell'amministrazione chi si occupa semplicemente dei trasporti della logistica è straordinario questo perché il lavoro editoriale quello che diventa libro si trasforma il libro è un lavoro d'equip la cosa che mi piace di più e che cerco di trasmettere in questo libro è quello che noi abbiamo dall'esperienza dell'editore e quindi da tutti anche tutti questi casi che racconto casi editoriali del molto contemporanei ci dicono come ci sono tante professionalità e come i libri funzionano se tutti si mettono insieme se il lavoro d'equip funziona e questo io credo che sia un'esperienza e un insegnamento per la cultura in generale anche per chi gestisce la cultura fondamentale ecco quindi è difficile naturalmente rispondere a una domanda così bella ma così complessa però davvero sono sono tanti i passaggi sicuramente me ne sono dimenticati diversi grazie sì grazie delle sue parole grazie di aver scritto questo libro ho avuto il piacere di leggerlo in pdf perché lei gentilmente ce l'ha mandato prima quindi abbiamo avuto la possibilità di leggerlo ma come dice lei stesso non lo sento mio in pdf lo sento mio soltanto quando è cartaceo quando ce l'ho in mano in pdf ne abbiamo moltissimi li leggiamo servono per un altro scopo è facile fare una citazione lo sapete benissimo da un pdf da un libro bisogna andare a trovare la pagina col pdf cerca abbiamo questi strumenti cerca si trova subito ciò che si copia si incolla si fa la citazione tutto più facile ma per leggere un libro bisogna averlo in mano se per me ognuno poi si regola come crede alcuni ascoltano un audiolibro andando da busto a milano e tornando e anche questo è un modo di essere in contatto col mondo ma c'è qualcosa che terrorizza lo dico perché è il motivo per cui mi trovo a essere micro editore sottolineo la parola micro rispetto a editore otto volumi no sei volumi pubblicati due pubblicanti quindi ma con grandissima soddisfazione e senza nessun ritorno economico dai ce lo siamo ieri sera se fossi andato a pescare trote forse avrei guadagnato di più ma di fatto non so pescare trote quindi avrei buttato i soldi così o un due trecento euro di attivo e dopo tutto pescare trote mi secca incontrare gli autori mi fa piacere ma io incontro gli autori c'è qualcosa che terrorizza perché proprio scenda del gatto pardo oltre a questo che lei ha raccontato c'è anche il fatto che appena uscì fu stroncato dalla critica e invece si affermò a furore di poco e c'è anche un altro fatto che può essere incoraggiante per chiunque vuole pubblicare il libro che la moglie che era volf psicoanalista a palermo di origine lituana ed è la prima psicoanalista in italia che ha fatto l'analisi con freud forse l'unica degli italiani la volf credette nel libro e a susi zzo raccontava che in un terrazzino si incontravano di notte a discutere sul libro se avete scritto un libro parlatene con qualcuno io mi trovo a fare l'editore perché avevo scritto il mio ma non comprendendo se era davvero comprensibile o utile per gli altri mi sono consultato con 6 7 amici detto volgarmente gli ho rotto qualcosa che non mi ricordo più come si chiama però mi hanno ascoltato mi hanno ascoltato con piacere quindi non proprio in quel modo giusto per citarlo si intitola se dio vuole ma dio è scritto con l'apostrofo allora ho guardato i siti delle case editrici non quelle di busto all'epoca non lo so perché è di qualche anno fa più di quattro anni insomma io ce l'avevo già pronto da un paio d'anni quattro anni che sono nell'editoria due anni non lo so chi c'era e non ho guardato però mi scuserete per questo mi perdonerete poi vi offro da bere per tu pubblici quindi io non avevo voglia di morire eventualmente quindi non così presto in un sito ho trovato mandati i vostri manoscritti a questo indirizzo in forma stampata senza clip in modo che possano essere gestinati o riciclati facilmente è un incoraggiamento di quelli avete capito tutti che cosa ho immaginato io e l'abbiamo immaginato tutti allora pubblicare un libro è un'operazione intellettuale pubblicarlo da autori è un'operazione altrettanto intellettuale entrate in contatto con possibili lettori con i vostri amici ascoltate sentite se per caso se la cosa può avere una risonanza si può aiutare il principio di altri eventualmente parlate con un editore meglio una telefonata ci incontriamo e ne parliamo e si vede che cosa si può fare lei parlava di uffici quattro piani quattro stanze se invece zero stanze perché il mio ufficio serve per altri lavori ed è soltanto nella mia testa e nell'incontro con gli autori però l'operazione intellettuale va sostenuta e sostenuta su facebook attualmente sostenuta in modo tale che ci sia l'aiuto reciproco del pensiero dell'autore rispetto ai suoi potenziali lettori del lettore rispetto ai suoi potenziali libri da acquistare l'ultima osservazione ormai e poi il manzoni pubblico l'edizione quarantana appuntate da sue spese e ci perse e ci perse e un'altra storia adesso noi lo leggiamo lui non ci guadagna più niente scrive i meccanismi dell'editoria dentro però c'è tutto il processo dinamico ma i dinamismi dell'editoria come titolo sarebbe stato meno meno accattivante meno meno pregnante dentro c'è tutto il processo ma bisogna che ci sia il processo dinamico del nostro far cultura del nostro far cultura anche quando andiamo a bere il caffè e chiediamo per cortesia mi mi da un caffè oppure tutto stronzo dammi un caffè dipende da come lo chiediamo del caffè riserviamo la stessa cosa è con il libro che chiediamo che vendiamo prego grazie certo è vero quanto quanto dice e comunque questo libro dimostra dimostra anche che bisogna sfatare un po di luoghi comuni perché anche quello del gatto pardo che io lo racconto è che ha avuto una critica abbastanza critica diciamo professionale abbastanza forte e negativa in verità non è così perché lo dico solo in due minuti perché è simpatico giangiavamo feltrinelli aveva un grandissimo aiuto è lungo dirlo ma giangiavamo feltrinelli è stato un grande editore perché è stato uno dei aveva una disponibilità economica straordinaria uno dei più grandi una delle famiglie capitalistiche più grandi in italia nel metà del novecento e come prima passione è stata quella di raccogliere cimeli e materiali legati alle rivoluzioni rivoluzione francese rivoluzione russe eccetera e quindi aveva giuseppe del bo che girava al mondo e comprava 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 addirittura mettendo in crisi anche kruscio che ad un certo punto dice ma che è questo qui ci porta via le cose che assolutamente sono sono nostre e infatti raccoglie quello che attualmente alla fondazione feltrinelli straordinario con questa con questa grande capacità poi naturalmente ha messo in piedi una serie di antenne che quando c'era qualcosa di particolare nel mondo sapevano che c'era giangiavamo feltrinelli che poteva essere interessato poteva anche pagare profumatamente da lì poi pasternak il caso del dottor zivago che è una roba straordinaria e appassionante perché per una strana ragione di diritti chi pubblica fuori dal dall'unione sovietica era una una legge stranissima pubblica prima che in di un autore russo ma prima dell'edizione russa lo pubblica fuori dalla dalla russia detiene i diritti mondiali e quindi feltrinelli poi riesce ad avere i diritti mondiali di questo successo che diventa poi una questione per cui anche il kgb si mette in mezzo vogliono bloccarlo non si blocca il partito comunista di cui feltrinelli uno dei maggiori sostenitori e mecenati non riesce comunque a convincerlo poi lui uscirà dal partito comunista perché andrà nell'estrema sinistra si mette di mezzo anche la cia fatto sta che lui lo pubblica eccetera eccetera ma quando ha in mano il gatto pardo dice alla segretaria mandiamolo mandiamo la bozza a a del boh giuseppe del boh il suo amico aiutante eccetera la segretaria non capisce e la manda carlo boh carlo boh era un critico grande critico letterario che però aveva sempre parlato male di feltrinelli si era messo sempre storto arriva arriva questo questa bozza la legge straordinaria fa una pagina intera sulla stampa naturalmente il corriere della sera vuole essere alla stessa altezza recuperano anche loro la bozza fanno una paginata per cui il libro che deve uscire l'anno successivo esce nel dicembre di quell'anno perché feltrinelli lo deve vede queste queste recensioni lo deve mandare in stampa ma questo per dire che ci sono tante vulgate e anche la storia editoriale che sta dietro a queste a queste vulgate è curiosa però è interessante il discorso dei manoscritti del di che cosa arriva di che cosa non arriva perché spesso in effetti capita che chi manda qualcosa non conosce davvero non conosce questo meccanismo io credo che conoscere i meccanismi dell'editoria sia fondamentale non solo per chi poi vuole lavorare in editoria ma per chi eventualmente vuole tradurre anche in altri ambiti vuole insegnare ma insegnare sapendo usare i libri nella nella maniera giusta cioè sono tante gli aspetti che il dietro le quinte dell'editoria ci possono che possono aiutare nella vita di tutti i giorni o nella nostra vita culturale eccetera adesso io non so tra di voi se c'è qualcuno o quanti hanno un libro nel cassetto e pensano di di non voglio chiedere di alzarvi la di alzar la mano però però sicuramente molti di noi sempre hanno qualche cosa di culturale da fare da progettare eccetera ecco riuscire a capire quali sono i meccanismi ad esempio in un capitolo racconto l'importanza della copertina la soglia della copertina ma pensate cerco di essere breve quando noi entriamo in libreria ma anche quando entriamo in una biblioteca come questa una bella biblioteca come questa bella anche perché luminosa oltre che ben impostata ma noi cosa facciamo vediamo i libri vediamo i libri e se entriamo noi cinque ognuno di noi si la sua l'attenzione di ognuno di noi si poserà su un libro diverso dall'altro lei sarà tirata da un'immagine artistica in copertina lei sarà tirata da un titolo lui sarà tirato da un'edizione particolare e lui sarà tirato da altre cose per esempio da una fotografia su una copertina ecco queste ha detto ha studiato genet sono proprio le soglie cioè noi è come se noi fossimo ogni ognuno di noi va davanti a un libro come se fosse una casa e si mette davanti siamo sulla soglia sullo zerbino e poi dobbiamo decidere ma entro o non entro allora incomincio a vedere la copertina guardarla bene intanto sono stato attirato da quella quell'elemento e quell'elemento chi l'ha inventato il titolo l'immagine in copertina il formato posso anche essere attirato semplicemente dal formato della memoria sellerio perché avevo letto camilleri e allora sono attirato da quello ma poi non è camilleri però ci posso posso comunque essere attirato allora cosa faccio l'ho volto guardo la quarta di copertina guardo il prezzo leggo due parole sull'autore ecco e mi decido se suono il campanello apro la porta e dentro nel libro lo acquisto o inizio a leggerlo eccetera ecco anche soltanto capire questi meccanismi io credo che sia importante e tra l'altro dalla copertina uno può già decidere che tipo di lettore potenziale ha immaginato l'editore ecco tutte queste cose io credo che non c'è non ci aiutano soltanto se vogliamo di mestiere far l'editore o lavorare in editoria ma proprio se nella vita crediamo che i libri siano importanti e quindi abbiamo bisogno di indicazioni per capire meglio questo universo legato ai libri però se ci sono domande credo che si possono si può aprire i dibattiti non tengo ok buonasera mi chiamo andrea ho 25 anni e innanzitutto ho trovato mocia io credo che c'è anch'io avendo comunque masticato editoria studiato editoria in università processi editoriali tutte le figure ci stanno dietro da dalla ricezione alla pubblicazione quindi sia con caratteristiche intrinseche che strinse che pr content management sia importante e fondamentale come base di impostazione dello schooling perché dietro tutta la promozione editoriale e culturale come esattamente diceva occhi pinti dietro tutta la promozione editoriale sta proprio è proprio uno spunto di partenza per la trasmissione della cultura anche a scuola e anche nelle istituzioni legate all'editoria e al libro la circolazione sapere quindi l'editoria che è stata una cosa marginalizzata soprattutto da luoghi comuni privi di fondamenta in realtà caspita si è importante e così come è importante tutta la cooperazione di figure e la trasmissione del prodotto editoriale anche legato da un innanzitutto una visual strategy e in secondo luogo una scelta di argomento e di genere che può essere varia che può essere arte saggistica ma anche narrativa e detto questo si spezzo una lancia a favore di quello che è successo che il fatturato dell'editoria aumentato del 3% come diceva e sono diventati ben più di 12 all'anno i libretti dei lettori forti secondo il rapporto aria del 2019 e detto questo si spezzo una lancia a favore e penso che l'editoria più che mai adesso più che mai sia un punto di partenza fondamentale per una ripresa culturale del nostro paese e del nostro paese è proiettata una città internazionale come la fiera di Bologna citata prima approdata pure annualmente a Shanghai e detto questo questo è il mio intervento e apprezzo moltissimo la citazione del Cattopardo che sì sicuramente è stata una delle dizioni criticate infatti il suo nome è nella biografia la maledizione di Antonio Armano insieme alle opere della tele della Pivano cioè dalle opere di Moravia da fuori di Steinbeck e certamente da altre opere che con il loro contenuto pungente con il loro contenuto dissacrante ma buono hanno fatto sicuramente scalpore e hanno rivoluzionato l'editoria punto di partenza del nostro paese. Grazie certo sì sì è così e anche rispetto al discorso legato ai diritti era stato citato la fiera del libro di Bologna che è la fiera più importante al mondo di editoria per ragazzi non dimentichiamo che l'Italia sta aumentando l'esportazione di titoli e il settore l'ambito in cui c'è un segno più di esportazione di titoli dell'export è proprio l'editoria per ragazzi quindi è interessante anche su quello inoltre poi c'è anche un dato significativo sul sulla saggistica quindi sulla no fiction e quindi insomma non non ci si può lamentare è un settore in crisi è un comparto in crisi ma un comparto che sa reagire che sta reagendo con responsabilità con la selezione dei testi e soprattutto con idee in qualche modo innovative quella comunque della digitalizzazione e dell'audio è comunque un passaggio molto importante. Le faccio io un'altra domanda? Senta ho apprezzato molto il suo intervento soprattutto nella descrizione della casa editrice tra virgolette modello ma io dico modello del passato secondo me c'è da interpretarla nel modello della casa editrice del futuro perché la pandemia ci ha messo nelle condizioni di fare delle riflessioni profonde e ormai io penso che il futuro sia legato soprattutto a comunicazioni fatte con realtà sparse potrebbero anche essere sparse in giro per il mondo faccio un esempio il grafico potrebbe essere in Argentina l'editore potrebbe essere negli Stati Uniti e tutte le varie componenti che una volta si centralizzavano tutte nell'edificio e venivano svolte tutte all'interno di questo edificio adesso la realtà li mette in gioco in altra maniera anche la semplice stampa che una volta si riempivano i magazzini di libri e poi magari gran parte venivano mandati al macero adesso la stampa diventa una commissione sul programmato sul venduto e questo è secondo il mio punto di vista l'editoria 2.0 chiamiamola 5.0 quello che lo vogliamo chiamare però io vedo molto che il futuro sarà in queste cose come anche il futuro avrà una una grossa eh importanza io ritengo che la la libreria la biblioteca eh avrà sempre un un suo significato perché il lettore eh ha bisogno anche del contatto fisico però non deve trascurare anche tutta la parte di eh 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 video lettura piuttosto che eh la lettura su tablet e queste cose cioè è un mondo che che cambia rispetto al Gattopardo che lei citava eh è finita quell'epoca del Gattopardo adesso se ne apre un'altra e secondo me gli editori eh anche 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 i piccoli editori eh avranno un loro significato un loro importanza soprattutto se si adegueranno a quello che è il futuro grazie certo eh io devo dire che credo anch'io che siamo in una fase in cui dobbiamo guardare il futuro siamo una fase di frontiera siamo una fase sicuramente il 2.0 l'abbiamo già superato ormai siamo nel 4.0 e attualmente nel 4.0 io resto dell'idea che il modello che vi ho presentato pur smaterializzato perché tutte le professioni si smaterializzano sia ancora quello eh la più grande realtà di smaterializzazione di digitalizzazione di delivery che è ormai è 5.0 che che Amazon eh ha iniziato smaterializzato ha iniziato con una persona che era a Parigi e in Italia non c'era nessuno quando dieci anni fa è partito adesso però hanno strutture che sono come quelle della Pirelli di 40 anni fa con 9.100 dipendenti quindi a certi livelli comunque la struttura la struttura conta e serve ancora perché comunque la logistica ha bisogno di struttura quindi va bene che le scrivanie e le stanze potrebbero essere dislocate in varie parti però nel momento in cui il lavoro diventa di un certo livello eh si deve io resto e dissento leggermente da quanto ha prospettato però ognuno rispetto alle prospettive agli scenari la può vedere diversamente io credo che ci servirà ancora una strutturazione eh di un certo tipo anche quando saremo al 5.0 al 6.0 però la smaterializzazione dovrà invece riguardare i processi io credo che il futuro non sarà solo di prodotto ma il futuro sarà di servizi di processi è lì che si svolge la che si valuta eh la differenza tenendo conto che anche il il libro la stampa a richiesta l'on the mind eccetera teoricamente è molto suggestivo e sembra far quadrare i conti ma le tirature sbagliate che sono 90 per cento 90 per cento di quello che fa ogni editore grande piccolo se non fa scolastica piuttosto che i resi e la materialità la materialità dei resi io credo che resterà quello io credo che il modello di best seller del del gatto pardo comunque resta ancora un modello che tutti gli editori vorrebbero continuamente fare perché gli attuali best seller non stanno durando come è durato il gatto pardo quindi è un problema al di là della smaterializzazione della delocalizzazione è un problema di società è una società la verità è come ha detto roncaglia siamo nell'età della frammentazione quindi il problema è la continuità e gli editori hanno un grosso problema sulla continuità perché gli investimenti che fanno non spesso non durano e quindi in questo senso il modello gatto pardo è una chimera e difficilmente sarà replicabile ma non perché è soltanto vecchio ma perché purtroppo la cultura non è più continuativa e attenta come quella di una volta ma aggiungo solo un elemento fondamentale una uno dei dei un cuore tra i tanti del discorso di questo libro è il fatto che il libro è comunque un oggetto culturale che non è soltanto prodotto l'ho detto prima ma è un servizio ma soprattutto è un qualcosa di anomalo il fatto che abbia già il prezzo stampato non lo rende anomalo ci sono solo i farmaci che hanno il prezzo stampato tutto il resto che in commercio non è e va bene perché ha un valore sociale lì va al 4 per cento e mi sta bene vorrei anche vedere ma c'è un elemento ancora più diverso è un è un settore industriale ma in verità l'abbiamo detto prima fa parte della del settore artigianale artigianato intellettuale perché perché le vere aziende le vere industrie hanno qualche prototipo lo studiano bene poi quel prototipo per anni per decenni lo vendono che sia il detersivo che sia la lavatrice che sia il microprocessore eccetera invece gli editori di ogni libro potrebbero potrebbero dire che è un prototipo perché lo pensano è diverso dall'altro eccetera però di quel quel loro prodotto in verità poi ne vendono poche o abbastanza copie solo in casi rarissimi ne vendono davvero tanti come fa normalmente l'industria quindi il problema è quello per essere davvero una industria che può arrivare al 4.0 al 5.0 dovremmo arrivare ai modelli di prodotti che vendono e durano i modelli gattopardo e purtroppo oggi non è più possibile non che non sia ecco e tenga e tenga presente che in ogni modo io intendo sempre che il cervello è ben stabile e localizzato i gangli operativi sono quelli che io intendo diffusi è pienamente ragione forse sono stato frainteso ma io il cervello deve essere lì la casa editrice e il cervello deve essere centralizzato sono i gangli operativi invece che devono essere messi in libera circolazione ma non soltanto italiana anche mondiale perché noi dobbiamo pensare a un'editoria i nostri testi classici hanno fatto hanno girato al mondo cioè noi siamo patrimonio di una cultura che possiamo diffonderla tranquillamente su tutto il pianeta per questo che dico che i gangli operativi mi piacerebbe questo sono d'accordissimo sì una domanda che così intende proiettarsi sul futuro è vero che bisognerebbe avere la sfera di cristallo ma qualche piccola previsione la si può fare partendo dai dati di fatto volendo così diciamo dire qualcosa con un po di buzza sotto il naso l'editoria si distingue da un estremo della carta stampata parlo ai rotocali parlo dei rotocalchi delle riviste eccetera dopo tutto anche mondadori si ha affermato attraverso questa strada a un mondo dell'intellettualità quanto più pura possibile pur con investimenti mettiamo in audio fallito sul progetto della grande enciclopedia l'enciclopedia ancora in circolazione ancora valida però in audio fallito anche lei in audio è presente ma non è più proprietà considerato che poi si riesce a stampare in gina nell'ultima in una delle ultime giustamente nel suo testo c'è scritto finito di stampare eccetera presso la tipografia con carte però questo non è del tutto obbligatorio è una norma di cortesia allora uno non lo scrive corre il rischio di stamparlo io non lo faccio ovviamente nessuno di noi lo fa corre il rischio di ricevere le copie che ordina con un po di buzza di pesce per stampare in gina con costi che sono irrisorio allora mi fa piacere cioè non è tra questo cioè tra il risparmiare perché si conoscono le strade eccetera tra il la ricerca intellettuale che è costosissima specialmente se la si promuove e il mercato della carta stampata che futuro intravede allora io credo che il futuro sia quello della lo diceva il nostro ascoltatore il futuro della smaterializzazione e la digitalizzazione io credo che il futuro sia quello ma sempre partendo da dalle scrivanie che abbiamo visto prima da quel lavoro intellettuale di progettualità eccetera poi facendo di conti budget quindi eventualmente andando a stampare a singapore dove si vuole stampare ma non è quello io credo che tra dieci anni tra di dieci persone che sono in casa editrice sei fanno un mestiere hanno una competenza che oggi noi non sappiamo nominare non sappiamo nominare non non sappiamo che cosa cioè probabilmente non c'è ancora un nome io credo che tra dieci anni gran parte della comunicazione per i dei libri e gran parte del del contatto con gli autori sarà attraverso canali digitali che non sono i social che conosciamo in questo momento e sarà tutto basato purtroppo come capita sempre nel mondo e soprattutto nell'editoria chi ha più soldi può investire di più e può andare più avanti e sarà molto legato alla intelligenza artificiale naturalmente ci sarà ci vorrà il 5g ma naturalmente ci sarà un discorso di big data questo è sicuramente un una visione a cui noi andiamo incontro e sappiamo che arriveranno prima e apparecchieranno al meglio chi ha più chi può investire di più però la strada la strada è quella come ormai noi dobbiamo abbandonare l'idea di un libro che è in un mercato di massa che non esiste più il mercato di massa noi siamo ormai in una massa di mercati ognuno deve trovare il proprio mercato la propria nicchia e allora deve lavorare lo scrivo nelle ultime parti con un nuovo rapporto con i lettori cioè io credo che il futuro sarà un futuro di community ma non il gruppo di facebook o di instagram o altro proprio delle community che sono giocate studiate lavorate con tutta una serie di procedure che naturalmente partono dalla tecnologia ma devono essere devono avere i contenuti e i contenuti sono quelli del catalogo della progettualità eccetera e ce ne saranno tanti quanto i generi o tanti quanto le case di trici e ognuno se la doverà costruire in maniera diversa naturalmente ci saranno poi i momenti di confronto le presentazioni utilissime come questa le fiere eccetera ma andremo sicuramente a ricopiare in qualche modo alcuni modelli che abbiamo già visto i modelli sono degli store che stanno avendo lo store soprattutto uno che è arrivato ad avere un certo momento del 2020 il 92 per cento della quota di mercato e sapete a chi mi riferisco un uno store che può investire decine di milioni in un paese dialettale come l'italia soltanto per far per attivare una sua promozione che la prime che serve soprattutto per far terra bruciata la concorrenza che mensilmente può acquistare boeing e delle strumentazioni che altri non possono e quindi sarà in ogni modo una direzione che è quella per cui noi scegliamo un libro in un quel determinato store e se andiamo anche sul sito delle ciclopedia treccani piuttosto che su un sito della nostra casitrice ci compare un riferimento nella ricerca ci compare un riferimento a quel libro che abbiamo cercato o che abbiamo solo su google ricercato due settimane fa e non sto parlando di spam di pubblicità o altro sto solo parlando di sistemi che nel futuro saranno una comunicazione fondamentale ci sarà la necessità con grande responsabilità con grande capacità io dico scrivo ci dobbiamo ripensare a un nuovo umanesimo in formato digitale ma un nuovo umanesimo editoriale per far sì che questo non vada a discapito della qualità della progettualità che ognuno di noi mette nel proprio lavoro nella capacità di incontrare gli autori di seguirli di fare editing fondamentale oggi oggi non abbiamo parlato tanto del discorso dell'editing ma l'intervento sul testo sulle parole che fa l'editore è fondamentale quindi venitemi a dire ama il futuro self publishing ma sì come mai tutti quelli che poi hanno successo vogliono vogliono pubblicare da una casa editrice perché perché c'è la mediazione e la mediazione è quella cosa che da responsabilità non si scappa e poi non venite a dirmi no ma l'editore non deve scegliere oppure l'editore sia anche la rai senza fare riferimenti a polemiche recenti non deve mettere il naso l'editore pubblico privato deve dare delle linee può avere delle linee può sbagliare quindi può anche essere criticato ma una linea una responsabilità ce la deve avere e quello ci deve e ci dovrà sempre essere per riuscire a difendere quello che glio vittorini un grande che faceva degli editing pazzeschi nel senso tagliava a grandi linee pensate che nel 42 durante la guerra c'era poca carta lui lavorava appena arrivato in a milano perché come verga milano la capitale dell'editoria della letteratura come sciascia come poi sarà consolo voleva a milano avere un suo un suo successo ebbene lavora per pompiani pensa a una a una collana che corona di poche pagine di formato piccolo perché la carta costa pensate che solo per la carta pompiani per la sua enciclopedia il dizionario delle 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 opere dei personaggi capolavori della letteratura mondiale fa comporre tutti i volumi poi perché la carta costa e non riesce a trovarla cosa fa a quel tempo si poteva scrivere a voce il verbo cioè verbo avere anche senza h ma con la accentata era ancora era valido fa tirar via tutte le h così risparmia centinaia di pagine siamo in quei momenti lì e allora pompiani pubblica una grande opera storica in più volumi l'amari michele amari grande storia di musulmani in sicilia ma cosa fa la taglia editing alla grande e fa diventare un volumetto popolare che il cambio addirittura statuta un testo quel testo era un testo storiografico di storia e lo fa diventare un testo narrativo pensate questo proprio un caso lo racconto un caso forse esagerato però per dire che ci siamo dimenticati di questo lavoro che noi facciamo tutti i giorni sulle parole ma che è fondamentale perché la parola comunque è al centro dell'editoria il centro della cultura perché al centro ci deve stare la lettura non si scappa se nessuno buonasera prima lei ha parlato del crowd funding a proposito del libro fiabe della buonanotte per bambine ribelli ecco ci sono delle case editrici che attualmente utilizzano questo sistema partendo dal presupposto che a fronte di una prima scrematura da parte della casa editrice quindi una selezione però la scelta della pubblicazione o meno di un libro spetti al pubblico e non alla selezione interna della casa editrice allora parte il fatto che questo evita ovviamente il rischio di impresa alla casa editrice però può essere effettivamente una buona filosofia questa pensando appunto al fatto che i social abbiano un ruolo così importante poi in questo momento che ne avranno sempre di più in futuro cioè affidare al pubblico la scelta di una di cosa deve essere pubblicato cosa non deve esserlo oppure è giusto che ci sia un diciamo una decisione presa da persone competenti e non da un pubblico che può avere dei gusti o ma magari non essere all'altezza della scelta insomma ecco questa non so se mi sono spiegata no no si è spiegata benissimo una domanda attualissima è complesso rispondere molto schematicamente c'è un caso in italia soprattutto che è stato il primo book a book di milano che ha adottato un algoritmo per utilizzare un crowdfunding a favore dei libri ma naturalmente il crowdfunding funziona anche su tutte le piattaforme funziona soprattutto per libri d'arte libri fotografici eccetera in verità però due cose uno la casa editrice non investe più di altre forse in alcuni casi meno perché spesso l'autore che vuole comunque ha tutta una serie di amici parenti altro che mette in moto per alzare la quota di finanziamento del volume quindi in altri casi addirittura non nel caso di book a book risulta quasi una forma di editoria pagamento sotto forma di facciamo scegliere al pubblico perché in verità seconda cosa il pubblico non sceglie perché perché il pubblico non conosce l'opera vede il plot a una sinossi vede la bozza di copertina eccetera e quindi ora scegliere su un autore che nella maggioranza dei casi un autore esordiente la vedo molto molto difficile e siamo alcune volte rischiamo di essere poi in sovrapposizione col discorso self publishing che anche lì un altro discorso complesso per cui paradossalmente uno si pubblica quello che c'ha voglia ed è su amazon o alla filtrinelli è un eccesso ma è un eccesso del mercato però va bene così nel senso noi dobbiamo essere essere consci che più si allarga e più si globalizza il mercato più c'è la possibilità per tutti di congestionare il mercato o comunque di renderlo caotico però io credo che la responsabilità non tanto di decidere di formare il pubblico ma di prendere delle decisioni e dire al pubblico io ho scelto quello perché io lui 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 abbiamo questo catalogo quindi se credi nel nostro catalogo una volta si diceva la legge derica derica il pelati io mi fido come dice la pubblicità e quindi mi fido dell'etichetta e quindi mi fido di quel catalogo perché poi di una casa editrice il progetto è il catalogo non è quello che uno mette chi siamo nel nel sito internet uno vede il catalogo e capisce che casa editrice è che le scelte che ha fatto eccetera allora io credo che valga di più quel tipo di responsabilità che i lettori scelgano è un servizio è un è un'idea falsamente democratica e falsamente libertaria che che non credo che poi serva alla cultura è come se la biblioteca potesse ospitare tutte le presentazioni possibili immaginabili di chi qualsiasi è un luogo pubblico quindi può farlo però di qualsiasi tipo e che possano comunque parlare tutti è giusto che tutti parlino però io credo gli spazi separati e con dentro cartelloni diversi volevo dire l'ultima cosa se posso proprio sull'editing la questione che mi sono posto è come interagire con l'autore rispetto al testo per cui ci siamo messi con gli autori pubblicati finora a correggerli assieme usando il tasto della delicatezza e impiegando moltissimo tempo ma avendo anche un bel ritorno perché sono entrato meglio nel pensiero degli autori proprio su questo su albacara mind farm bisogna un sito di facebook gli ultimi tre incontri sono stati sull'editing il prossimo incontro tra 15 giorni sarà ancora sulla scelta del lessico perché non è soltanto la questione dell'editing sul già fatto l'editing significherebbe per leopardi che il zappatore sbagliato io glielo direi sapendo benissimo qual è la risposta però bisogna che l'autore mi dica so che la risposta è questa qui non mi basta la fiducia nell'europati certo a distanza di più di 200 anni cosa vengono 200 anni quasi esatte 1821 22 più o meno a distanza di 200 anni non glielo chiedo più ma l'autore che scrivesse adesso il zappatore gli chiederei perché a maria giovanna massironi che ha scritto terra maiuscola quando tutti gli altri nomi propri erano minuscoli per un cerco nel carattere minuscolo ho chiesto perché lo sapevo benissimo perché terra si confonde ma bisogna bisogna l'autrice melodica e mi faccia sapere che sa difenderlo in modo che io stesso possa difenderlo in sua assenza l'ho citato molte volte la stessa cosa con altre ora il prossimo sarà sulla scelta del lessico e tra un mese verrà certo proprio su cro found cro found link perché in effetti è una questione importante anche questo prego e allora chiudo proprio sul discorso l'edit è un discorso molto importante la valava il valore dell'edit non è tanto correggere con l'autore collegere prima correggere dopo è l'autorevolezza di chi fa l'edit c'è l'esperienza e come comunque un traduttore la prima cosa un traduttore è che deve conoscere benissimo la lingua in cui deve far arrivare quel determinato testo e quindi non deve prima di tutto conoscere bene la lingua di partenza da cui traduce ma la lingua in cui traduce e quindi è una questione di esperienza è una questione insomma però l'editi la traduzione sono mondi a parte casomai ci ritroviamo più un'altra volta a parlare di questo però a proposito di editing racconto la figura bellissima straordinaria di grazia kerchi una grande consulenza consulente editoriale che ha anche lavorato per ha fatto l'editi di grandissimi autori ad un certo punto lei tra l'altro era editor di stefano benni che le ha dedicato dei versi affettuosi e manchi ironici e possiamo posso chiudere con questo ha scritto grazia era molto famosa perché tagliava era molto critica grazia ha telefonato e mi ha detto finalmente mi hai mandato un vero romanzo asciutto e stringato grazia da mesi di dirtelo tento era la lettera di accompagnamento allora io chiuderei ringraziando vi ringraziando intanto il professor cicala che oltre a essere docente all'università cattolica di milano e di pavia e anche editore egli stesso di interlinea ehm e ringrazio tutti i nostri editori quelli seduti quelli in sala perché secondo me questa sera abbiamo ribadito un concetto importante che abbiamo cercato di promuovere in città lo stiamo cercando di promuovere da da qualche anno da quando mi è capitata una doppia delega alla cultura e allo sviluppo economico cioè all'industria all'artigianato e al commercio circa l'importanza della cultura anche come industria come fattore di sviluppo anche economico non solo eh morale educativo e sociale degli individui e della comunità perché gli editori eh sono imprenditori eh e di imprenditoria è intrisa e permeata la cultura credo che la pandemia abbia in qualche modo portato di nuovo alla luce ulteriormente questo aspetto perché dal mondo della cultura durante il lockdown è arrivato una richiesta di attenzione circa una presunta discriminazione per noi reale ma insomma lasciamo giudicare eh del legislatore eh nella nello scegliere di consentire alle attività imprenditoriali e in buona parte anche commerciali di riprendere ma di tenere chiusi i luoghi della cultura molto luoghi della cultura la sottolineatura che 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 è stata fatta dal mondo della cultura è che in quel momento si stava forse pensando solo alla fruizione della cultura considerata altrettanto opinatamente eh una eh necessità trascurabile un bisogno di cui si potesse in quel momento fare meno ma trascurando in realtà l'altra faccia della medaglia cultura e cioè il lato il fronte imprenditoriale di chi di cultura lavora di chi per la cultura lavora stasera sono emersi tanti profili professionali che stanno all'interno di una casa editrice e che partecipano di tutti gli step che portano al prodotto servizio libero ma per il mondo del teatro è la stessa cosa per il mondo della musica è la stessa cosa allora io sono grata dell'incontro di questa sera non solo perché appunto ci ha consentito anche in maniera estremamente gradevole e comprensibile per noi non ma detti ai lavori di varcare questa soglia immateriale tra il libro prodotto in mano e coloro che lo realizzano ma soprattutto per averci aiutato a riaffermare questo concetto che di cultura si mangia di cultura si lavora e che quindi forse occorre guardare a questo mondo anche sotto questo aspetto e non solo sotto l'aspetto di un intelligente impiego del tempo libero come purtroppo in molti casi accade grazie a tutti e ci vediamo a domani con gli altri incontri di via bucchia buona serata grazie a tutti grazie a tutti